C'è un posto a Tortoretto Lido nel quale è imprescindibile andare non solo se si è a Tortoretto Lido ma anche se si è nel Terramano anche se si è in Abruzzo anche se si è nella confinante Marche che tanto sono 10 km c'è un posto in cui non potete proprio andare ci andate magari per colazione magari ci andate per pranzo magari ci andate per un veloce aperitivo andateci quando volete ma voi al Bar Passicceria da Franco che è su Lungomare Sirena al numero 200 ci dovete andare è una cosa pazzesca veramente un'esperienza unica è incredibile ma quello che è incredibile non è l'alta qualità e l'alta professionalità di ciò che viene proposto e viene proposto di tutto cioè dalle brioche, i panini agli aperitivi quanto la cordialità la gentilezza l'educazione e un'attenzione al dettaglio che è quello che fa la differenza il dettaglio perché nelle piccole cose che poi si vede il tutto se uno c'è o ci fa è un po' come negli uomini no? qual è la regola? che un uomo si capisce dalle scarpe che porta e da come le porta ecco uguali è dal dettaglio non è dall'apparente poi togli il fumo e vedi quanto è l'arrosto una cosa ad esempio che abbiamo notato in maniera incredibile quando appena siamo entrati con Zoe il nostro cane la prima cosa che hanno fatto non hanno servito neanche noi siamo arrivati con una ciotolina con dei biscotti adesso lo vedete nelle immagini e ci hanno chiesto se le poteva andare il cane hanno fatto i biscotti apposta con le ricette per cane quindi niente zucchero niente cose strane la prima cosa che ci hanno chiesto è se potevano andare il cane che ovviamente Zoe figuriamoci che cosa fa e questa è una cosa molto importante perché quando uno entra con un cane avere l'attenzione verso l'animale è addirittura più importante che avere la verso il padrone per dire c'è un'altra immagine in cui si vede Antonio Cerino della concessionaria Camper Light con Lorita Puccetti che prende l'aperitivo due spritz però con una montagna di olive ma poi le olive che ci hanno portato non sono quelle del supermercato del discount sono delle olive pazzesche una roba che neanche nelle tavole di molta gente si trova a pranzo a cena durante le feste si trova delle olive così figuriamoci quindi consiglio che vi diamo di cuore noi ci siamo stati ci siamo trovati l'esperienza coinvolgente veramente coinvolgente per cui se siete da quelle parti ci andate o davvero vi perdete qualcosa ciao